Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa delle principali attività del Consiglio regionale della Toscana. In primo piano ci occupiamo dell'interrogazione in aula in Palazzo del Pegaso, che ha chiamato in causa il governatore della regione Eugenio Gianni sul tema dei fondi del PNRR per lo stadio. Artemio Franchi I fondi del PNRR destinati al progetto di ristrutturazione e ammodernamento del Franchi di Firenze ammontano a circa 200 milioni dei quali 100 per la ristrutturazione e il consolidamento dello stadio da un punto di vista culturale. Gli altri 50 milioni circa per prevenire una situazione di degrado che se lo stadio venisse spostato si creerebbe a Campo di Marte e infine i restanti 50 per l'attivazione del coefficiente di rivalutazione per l'aumento dei costi delle materie prime. Così il presidente della Toscana Eugenio Gianni, dopo aver precisato che l'impianto è di proprietà del Comune, che la regione non è nel contesto della procedura, ha risposto nell'aula di Palazzo del Pegaso all'interrogazione di Italia Viva sui fondi del PNRR per il nuovo Franchi alla richiesta se sia più conveniente investire questi soldi pubblici in altri interventi sul territorio, Gianni ha spiegato che tra i nostri 2.920 progetti plausibili perché sono stati vincitori ai bandi ce ne poteva essere qualcun altro prioritario, ma per me se ci attiviamo perché tutto il progetto del Franchi venga acquisito al PNRR svolgiamo una funzione utile di restyling di un bene culturale unico in Italia e di prevenzione di un processo di degrado. Era corretto che il Consiglio regionale affrontasse una questione così delicata, 200 milioni di euro su un intervento pubblico su uno stadio dove gioca una società professionista, era importante che si discutesse. Noi siamo convinti che questi interventi debbano essere effettuati dai privati, per questo abbiamo interrogato il Presidente della Giunta per comprendere la propria opinione, per far capire che se verranno ridiscussi le risorse del PNRR è corretto e doveroso che non vengano utilizzati ulteriori soldi pubblici, si lascia spazio ai privati per fare questi interventi, le risorse pubbliche vengano invece destinate per dei settori che secondo noi hanno maggiore necessità, penso alle scuole, penso al sociale, penso ovviamente alla cultura e allo sport, ma quello sì diffuso dove tanti ragazzi e tanti giovani fanno attività sportiva, non soltanto a Firenze ma anche tutta la Toscana. Quindi per noi l'esigenza era di puntualizzare questo aspetto, di esprimere il nostro punto di vista differente e soprattutto incalzare sul fatto che debba esistere una regia di carattere regionale sulla programmazione degli interventi e la Regione a nostro avviso ha il diritto e il dovere di intervenire in questa materia. L'errore è quello di definire l'intervento sullo stadio una riqualificazione di un'area, si riqualifica solo ed esclusivamente lo stadio, perché tutti quelli che sono, poi dopo che è il progetto, cioè l'area commerciale, la tramvia, il sottopasso del Viale Paoli, non rientrano in questi 150 o 200 milioni, per cui si va a fare un investimento di 200 milioni in uno stadio che poi dopo non sarà usufruibile, non sarà perché ci sono due componenti fondamentali per l'UEFA per definire uno stadio a livelli eccellenti, cioè la viabilità e la sicurezza. Passi per la sicurezza, ma credo che la viabilità poi sarà un grande problema proprio per arrivare allo stadio. Credo che potremmo trovare una soluzione completamente diversa, perché lo stadio avrebbe bisogno sicuramente di essere rimesso a posto e riqualificato, ma non deve perdere quella che è la sua identità di bene culturale. Un intervento su questo e lo stadio nuovo, visto che abbiamo un investitore privato che è disposto a metterci 250-300 milioni per farlo nuovo, si deve trovare un'altra area per farlo. Un altro tema al centro del dibattito in Consiglio regionale è stato quello degli alloggi ERP edilizia residenziale pubblica nella nostra regione con nuove disposizioni di legge in materia e l'approvazione all'unanimità da parte dell'Aula. L'Assemblea Toscana ha approvato all'unanimità la modifica della legge regionale che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica. La normativa nazionale stabilisce che le regioni provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata e ha recentemente disposto, tra l'altro, che le stesse regioni provvedano all'aggiornamento anche infranuale dei rispettivi preziari dei lavori per affronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici. Tali previsioni confermano l'obbligatorietà dell'applicazione del preziario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni. Determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti, perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni che è stabilito da un decreto ministeriale che la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo a causa dell'inflazione diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il preziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. In Toscana abbiamo poco meno di 50.000 alloggi ERP di questi 3.000 sono vuoti perché non ci sono i soldi per metterli a norma ma noi pensiamo che si possa intervenire vendendo un po' di alloggi popolari a chi già ci sta dentro, ovvero dando la possibilità di riscattarli. Con quei soldi si possono mettere a norma gli oltre 3.000 alloggi dell'edilizia popolare pubblica che non sono sul mercato e che quindi non possono essere messi a disposizione delle migliaia di toscane e toscani che invece hanno diritto a entrare dentro quegli alloggi. 3.000 alloggi vuoti significa circa 10.000 toscani che avrebbero diritto a una casa popolare e che non la possono avere perché non ci sono i fondi a sufficienza per ristrutturare gli alloggi già presenti. Noi diciamo vendiamone a chi già ci sta dentro 1.500 e con quei 1.500 che diamo a chi già ci abita e quindi li facciamo riscattare possiamo ristrutturare gli altri 3.000 che vanno a chi ne ha diritto. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico, questa maggioranza, ha potuto operare sia in Regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le Regioni. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Approvazione all'unanimità in Consiglio regionale anche per quanto riguarda la proposta di legge al Parlamento per istituire la lettura libera a scuola cerchiamo di capire più approfonditamente di cosa si tratta. Vediamo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge rivolta al Parlamento per introdurre quotidianamente nelle scuole italiane 15-20 minuti di lettura libera, silenziosa e individuale. Il progetto prevede che gli studenti possano leggere il proprio libro qualunque esso sia preferibilmente in formato cartaceo ferma restando la possibilità anche in relazione a specifiche esigenze didattiche e di inclusione di utilizzare dispositivi digitali. L'attività deve far parte del monte orario previsto dalla didattica degli studenti. Le scuole possono organizzare lo spazio nella propria autonomia senza determinare costi aggiuntivi e con le medesime risorse umane. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno che può offrire. Devo dire che ci ha invitati a questa riflessione una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2022 sulla base della quale si dimostrava che durante il lockdown il 51% dei ragazzi tra 11 e 18 anni aveva aumentato il numero di libri letti. Questo ci ha fatto pensare che, avendo meno distrazioni, con le condizioni di contesto adeguate, un rapporto con la lettura non era in viso ai ragazzi, anzi veniva coltivato. Quindi abbiamo pensato perché non creare questa opportunità ogni giorno a scuola in modo da radicare una buona abitudine. Sappiamo che anche le cose che ci fanno bene spesso non ci abituiamo a farle. Invece la ripetizione quotidiana può portare a maturare una relazione differente con la lettura. Gli studi dei neuroscienziati ci dicono poi che almeno 15 minuti è il tempo necessario per entrare in quella condizione di lettura profonda. Ci vogliono mille secondi. E quindi abbiamo indicato nella legge almeno 15 minuti in modo che gli insegnanti, le scuole liberamente possano organizzarsi. Chiudiamo con il cinema e il grande omaggio riservato dal Consiglio regionale della Toscana al maestro coreano. Il regista premio Oscar Bong Juno che è al cinema la compagnia di Firenze ha ricevuto proprio un riconoscimento ed è andato in scena. ha anche un suo film restaurato in bianco e nero Mother del 2009. Ha sbancato Hollywood con quattro premi Oscar nel 2020 con il capolavoro Parasite, già palmadoro a Cannes ed apice di una carriera tutta in ascesa ispirata dai maestri asiatici Imamura e Xiao Jian. Il regista coreano Bong Juno è il grande protagonista del ventunesimo Florence Corea Film Fest con una masterclass al cinema la compagnia e la proiezione di Mother splendido film del 2009 adesso presentato in versione in bianco e nero. Il cineasta 54enne è stato omaggiato anche dal Consiglio regionale che ha patrocinato il festival con uno speciale riconoscimento. Sono davvero orgoglioso di poter conoscere e dare il benvenuto in Toscana a uno dei registi più importanti al mondo. Attraverso il suo cinema ci pone tante domande pone tante domande anche alle istituzioni e credo che il nostro compito oggi sia quello anche di mostrargli quanto è bella la Toscana. I nostri borghi sono set cinematografici cinematografici a cielo aperto sono luoghi incantevoli in cui poter girare le scene più belle al mondo e spero che questo connubio insieme al Corea Film Festival possa continuare e possa portare il nome della Toscana anche fuori dai nostri confini e possa far conoscere ancora di più quanta bellezza ci sia nel cinema coreano. Questi dunque i principali temi trattati dall'Assemblea Toscana le attività del Consiglio regionale tornano protagoniste tra una settimana su RTV38 un altro appuntamento da non perdere sulla nostra emittente grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci Canadian un altro appuntamento da non perdere una assicura per l'attenzione dunque i principali Grazie a tutti.